Sole e luna, l'archetipo maschile e quello femminile, quindi due fette della stessa mela, come le culture del mondo e i ponti che gli permettono di comunicare, quindi le migrazioni, che è il tema guida della dodicesima edizione del Festival Internazionale del Documentario, che si terrà dal 3 al 9 luglio a Palermo, tra le mura di Santa Maria dello Spasimo. 36 film in concorso, una giuria eccezionale, perché abbiamo anche Marpeplò, premio Oscar per la sceneggiatura. dell'ultimo imperatore. Direi che abbiamo grosse aspettative e molto interesse per sapere cosa ne pensano della nostra selezione. Un festival che ha saputo mantenere, crescendo la propria caratteristica, le proprie tipologie, e che sposa anche quelle che sono state le politiche negli ultimi anni della città, proprio partendo dal tema dell'accoglienza e del dialogo delle culture. Storie da tutto il mondo, storie di oggi, comprese in tre gruppi, The Journey, Human Rights e i Corti. La prima delle proiezioni sarà lunedì 3 luglio alle 21 con un tributo alla città di Palermo con il documentario Pellegrino di Ruben Monteroscio e Federico Savonitto. Migrazioni, dicevamo, è quindi il multiculturale e la Sicilia sembra proprio il luogo perfetto. Questo è un momento importante più che mai per parlare di migrazioni. Noi quest'anno riteniamo che la dimensione centrale debba essere la questione della dignità, perché riteniamo che la dignità, la centralità della persona e dunque la dignità della persona sia premessa per parlare di qualunque diritto ai diritti. E se non c'è questo non possiamo fare niente. Qual è il consiglio che può dare a chi fa documentario, a chi inizia questo percorso? Alla relazione, a stare attenti proprio alla persona, alla persona nella sua dimensione più articolata, a non farne un discorso da lontano, ma entrare dentro, entrare dentro le storie. Il mondo del documentario è un mondo complicato, un imbuto come la maggior parte delle passioni artistiche. La Sicilia in questo contesto si pone come punto di riferimento, gli studenti invertono la rotta tipica, anziché da sud a nord, fanno il percorso contrario per frequentare il centro sperimentale di cinematografia. E questo, Gualtiero, ci fa davvero un gran piacere, perché da quando il cinema documentario è entrato a pieno titolo come il cinema di finzione, come un cinema di serie A, ci piace così definirlo, la nostra sede ha raggiunto davvero un livello notevole. Ne approfitto per dirti che abbiamo il bando aperto, che scadrà il prossimo 5 settembre, per cui i giovani dai 21 ai 27 anni che vogliono diventare dei cineasti nel mondo del documentario, qui a Palermo possono trovare la loro casa del cinema.